Buongiorno a tutti, benvenuti a questa seconda giornata, abbiamo chiamato un corso di formazione ma in realtà è un incontro, un incontro che fa tra varie persone con competenze diverse che vogliono discutere di questo argomento, conoscere, comunicare e gestire i rischi idrogeologici in ambiente montano, siamo all'interno di un progetto europeo, il Life Franca, di cui abbiamo già parlato e di cui Rocco ha presentato le linee essenziali e quello che stiamo facendo, abbiamo svolto la prima giornata in cui abbiamo dialogato, è stato veramente interessante anche perché assieme a una parte di corso abbiamo avuto quello che abbiamo definito essere una conferenza pubblica, un dibattito pubblico, con interventi da parte di giornalisti, giudici, sindaci, è stato veramente interessante vedere i diversi punti di vista, le diverse esperienze e quindi abbiamo capito che c'è tanta strada per poter costruire poi una metodologia che si archisca dei contributi che rendono da questo dialogo, da questo metter assieme le competenze. La giornata odierna è costituita da una mattinata in cui abbiamo il piacere di ospitare il professore e collega Eugenio Caliceti dell'Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, che ci parlerà della gestione partecipata del rischio, i procedimenti ambientali e l'accesso alle informazioni ambientali. Quindi abbiamo di nuovo un intervento specifico che sviluppa tematiche e precipue della competenza amministrativa giuridica e poi abbiamo uno degli elementi fondamentali del nostro procedimento, della nostra metodologia che è costituita appunto da una fase di sperimentazione. Abbiamo visto anche l'intervento del sindaco e per la sua stessa emozione quanto sia importante essere, come dire, ai dotti, consapevoli di quello che ci aspetta quando abbiamo una responsabilità e dobbiamo prenderci da questa responsabilità e quindi grazie all'attività preparativa della dottoressa Martinengo faremo questa sperimentazione della gestione dell'emergenza in cui potremo svolgere ruoli diversi da quelli a cui siamo abituati. Poi, e questo concluderà la mattinata, nel pomeriggio abbiamo poi l'intervento di Marta, l'intervento che parlerà di come si pianifica l'emergenza e in conclusione poi avremo l'intervento di Rocco che quindi ha aperto e chiuso questa doppia giornata di lavori e nel mezzo, però adesso mi devo rivolgere al professor Riccardo Rigoni, anziché avere come ospite Antonio, il dottor Antonio Ziantoni purtroppo dobbiamo rendervi conto che... Oggi pomeriggio abbiamo invece il servizio geologico della provincia di Trento che presenta la carta del pericolo della provincia di Trento. Purtroppo il dottor Ziantoni si scusa ma è stato trattenuto a Roma da un impegno che non aveva potuto cancellare insomma nonostante le mie insistenze e quindi ci sarà una prossima puntata su quel tema. Infatti, le probabilità che succedesse qualcosa dal punto di vista del rischio che la partecipazione della donzia Antoni era alta, lo sapevamo e che proprio ieri si è un'unica, anche se non ha piovuto a Roma ma era stato questo. Va bene, allora invito il professor Genio Calcenti Grazie. 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 Grazie.